Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di abbandonare un gatto. In realtà il sottotitolo di questo romanzo viene spesso ignorato, ma è molto importante, cioè abbandonare un gatto dove parlo di mio padre. E perché ve lo dico? Perché tendenzialmente noi potremmo leggere Murakami, abbandonare un gatto, e intuire che si tratti di uno dei diversi libri introspettivi nel classico stile giapponese. Non che sia una cosa negativa, ovviamente, anzi è stato il motivo per cui io inizialmente l'ho preso. Questo è uno di quei libri che spesso mi capita di leggere, cioè libri che io non mi sono cercata, non mi sono capitati da nessuna parte online, semplicemente qualcuno, io lavoro in biblioteca, qualcuno me lo riporta, mi incuriosisce, lo apro un pochino, gli do un'occhiata, e visto che tanto la persona lo ha riportato, quindi non serve più, e non ha eventualmente prenotazioni, ovviamente, a quel punto dico vabbè me lo porto a casa io. E quando l'ho portato a casa e sul sito della biblioteca, tra i miei prestiti, usciva fuori anche il sottotitolo, dove parlo di mio padre, mi sono per un attimo interrotta. Infatti io questo libro ce l'avevo, diciamo, nella mia gigantesca pila, perché vabbè lasciamo perdere, da un mesetto forse, perché ci sono alcuni tasti, alcuni argomenti, che per me sono un po' dolenti, ma non solo come magari vengono trattati, oppure di per sé, ma perché so che sono argomenti di cui, diciamo, per me è difficile parlare o è difficile tirare fuori, e quindi l'ho tenuto, ma in realtà io ogni giorno dicevo vabbè domani lo riporto, lo riporto a lavoro, vabbè domani lo riporto a lavoro, domani, domani e alla fine l'ho iniziato. Allora, si tratta fondamentalmente di una sorta di biografia, nel senso che partendo da un ricordo in particolare di Murakami, appunto quello che dà il titolo al libro, il ricordo di lui e suo padre che vanno ad abbandonare circa negli anni 50 un gatto, una gatta che loro avevano e che era rimasta incinta, e non potendosi permettere di mantenere tutti i vari micetti vari, decidono di abbandonare la pratica che lui ci racconta essere molto molto comune ai tempi, quindi lo fanno alla luce del giorno, come se stessero andando a prendere il pane. Partendo da questo ricordo, poi va a ritroso, va a raccontarci quello che lui ha scoperto fondamentalmente di suo padre, perché molte cose suo padre non gliela mai dette, e scopriamo che per il percorso di vita che ha scelto Murakami, in realtà lui non ha mai avuto un buon rapporto con il padre, il padre ovviamente è deceduto, da qui diciamo nasce la voglia di voler parlare di lui, ed è molto introspettivo. Per quanto riguarda il periodo storico, appunto, la storia che vediamo noi è ambientata all'incirca negli anni 50 in Giappone, perché appunto è quando Murakami è piccolo. Ovviamente più che si va indietro cambia, si va all'indietro, ovviamente perché vediamo la storia del padre, però cambia il periodo, vengono anche citate la Grande Guerra, la Seconda Guerra Mondiale in alcuni punti, perché suo padre ha partecipato alla guerra, anche se tramite Murakami ad esempio scopriamo un pochino anche alcune particolarità della guerra e anche particolarità nella vita del padre, perché il padre è stato, passatemi il termine, graziato, perché non ha vissuto tutta la guerra nel modo in cui un qualsiasi altro giovane invece giapponese l'ha vissuta. Ovviamente non si tratta di un romanzo di finzione, per tutti i motivi che abbiamo appena citato, però credo che per le persone come me un pochino sembri, semplicemente per una questione di distanza culturale, sociale e ovviamente contestuale a livello storico, anche se ovviamente in questi ultimi periodi stiamo vivendo in modo indiretto una guerra, non che non ce ne siano state altre nel corso degli anni ovviamente, però comunque ne stiamo vivendo una che è molto vicina a noi e mi sembra l'occasione perfetta per ricordarvi che in questo, come in tutti gli altri video da quando è iniziata purtroppo, la primissima cosa che trovate in descrizione sotto i miei video è il link per donare all'Ucraina. Volevo fare questa piccola cosa perché mi sembra giusto ogni tanto ricordarlo, quindi è un interessantissimo testo che è proprio uno spaccato di vita, non solo di una persona, che già quello è interessante, già il semplice fatto che sia la vita vera di qualcuno, ma anche perché è totalmente distante da noi da qualsiasi punto di vista, è molto introspettivo perché Murakami non va semplicemente a raccontarci la storia di per sé, ma va anche a riflettere su quanto il padre gliene abbia raccontato su che cosa magari sentisse intorno, anche banalmente i suoi genitori che si sono sposati, ma in realtà non si dovevano sposare, infatti lui va anche a riflettere su la casualità della vita, cioè se mia madre avesse sposato la persona che davvero doveva sposare, che poi invece è stato un ragazzo che è morto in guerra, io non sarei mai nato, i miei libri non sarebbero mai nati, l'insoddisfazione di mio padre per il mio percorso di studi e il mio percorso di vita non sarebbero mai nate, e via dicendo. E sono secondo me messaggi fondamentali, è sempre molto importante ricordarsi, secondo me, quanto siamo unici, quindi siamo qui e siamo unici, ma allo stesso momento siamo qui a caso, cioè tanto vale viversela perché potevamo anche non starci direttamente, quindi... Si tratta di un romanzo non solo molto breve, ok? Perché conta 72 pagine, poi due paginette di post-fazione, niente di estremo, che io però mi sento di consigliarvi di leggere, sono solo due paginette, però sono molto carine. Non solo è abbastanza breve e le scritte sono abbastanza grandi, quindi utilizza anche un formato un po' particolare come stampa, ma in più è illustrato. Queste illustrazioni sono bellissime, so che cadono sotto uno stile in particolare, semplicemente perché mi è capitato di vederle spesso simili nello stile, nelle caratteristiche, ma non saprei descriverlo, definirlo perché molto banalmente non me lo ricordo. In ogni caso sono incredibili, ce ne sono alcune di queste, vi mostro ad esempio proprio la primissima che vediamo, sulle quali io mi sono davvero soffermata, sono molto molto belle. L'unica grossa criticità che mi sento di fare a queste dannate da questo punto di vista, illustrazioni, è che alle volte bloccano la lettura, nel senso che noi troviamo la frase interrotta, interrotta, vi leggo un pezzettino qui sotto, quando si impose l'enorme e cruciale problema della successio illustrazione, che capirete leggendolo, altra illustrazione, né, quasi tutti i figli avevano famiglia, eccetera eccetera. Questo è insopportabile perché succede molto spesso, ed è vero che è un titolo con un ritmo lento, cioè ti fa davvero fermare e riflettere e ragionare, pensarci un pochino di più, però io la frase la vorrei concludere se possibile, per piacere. E questo in realtà si sarebbe risolto molto semplicemente con delle piccole differenze dal punto di vista dello spazio utilizzato all'interno della pagina. Se si fosse deciso di utilizzare una riga in più sotto, banalmente, questo problema non si sarebbe posto. Addirittura in alcune parti inizia la frase, cioè c'è proprio solo la prima parola della frase e poi l'illustrazione e poi c'è la frase. A quel punto manda a capo direttamente perché davvero mi interrompi. E sono bellissime illustrazioni e sono ovviamente posizionate in punti strategici, cioè legati a quello di cui si sta parlando, ma alle volte arrivano un pochino dopo rispetto a dove me ne ha parlato. Non sta interrompendo la frase in cui mi ha appena detto quella cosa e quindi è un po' come se si fermasse, ti facesse vedere una foto, tu parli con Murakami, ti fa vedere la foto e poi continua il suo discorso. No, perché quel discorso l'abbiamo già concluso, stiamo andando avanti, però torniamo indietro per un attimo, ti blocco anche la frase che ti sto dicendo, quindi hai anche un attimino di confusione, e ti faccio vedere l'illustrazione con magari quella mezza pagina, una pagina, due pagine di ritardo, tra virgolette. Quindi su questo avrei assolutamente ragionato di più, in termini della posizione, in termini proprio della struttura delle frasi, a quel punto stai più attento a dove finiranno le frasi e dove finiranno le illustrazioni. Sarò onesta, proprio perché sono molto belle e comunque funzionano, ok? Nel testo, nello stile funzionano. Alle volte ne ho sentito la mancanza, secondo me ce ne volevano qualcosina di più, non dico ogni pagina, però qualcosina in più sì. Questa la ritengo una mancanza, non dal punto di vista delle illustrazioni, ma dal punto di vista dell'organizzazione di queste correlata al testo. Detto questo, a me è molto piaciuto, non c'è tantissimo che io vi possa dire, perché comunque è la storia del padre di Murakami, punto. E secondo me è anche giusto che voi non sappiate dove vi state per infilare, quindi fatemi sapere voi che ne pensate, se l'avete letto, se lo leggerete, se c'è magari qualche spunto che ho messo all'interno di questo video che magari vi va un pochino di argomentare voi nei commenti, se avete qualcosa da consigliarmi, soprattutto volume unico e non saghe o comunque storie continuative, possibilmente, però qualsiasi cosa, anche non correlata, qualcosa di completamente diverso, che voi state leggendo vi piace, fatemi sapere. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video. Mi è caduto il microfono.